Ciao a tutti ragazzi in questo video vi recensirò la quinta parte del Pitappa Blaster di Paperinic l'ultima parte questo è il fumetto qua c'è la protezione qua c'è il pezzo poi qua dietro è scritto tra l'altro tui l'attazione viene a vedere a Disneyland il 10 luglio qua c'è scritto topolino qua il pezzo è 2,50 e li andiamo ad aprire questo è il pezzo più dietro il coso delle istruzioni questo è il fumetto va dentro qualcosa beh qua ci sono 5 storie più una del Pitappa Blaster ebbene ci vediamo alla prossima